segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te assolutamente sì lei rose non le chiedo se antifascista perché naturalmente non ha domani ma lei è anticomunista aspetta a rispondermi perché guardi questa clip del ministro san giuliano guardi la clip prima e poi mi risponderà sentiamo san giuliano 2019 ha approvato una mozione votata anche da una parte del pd non da tutto il pd ma da una parte del pd nella quale si dice che il comunismo è pari al nazismo quindi io dico di essere antifascista ma lei domanda si sente anticomunista era lui che faceva le domande giornalisti e io lo chiedo a lei rosibili faccio solo una premessa posso fare una premessa scusi poi la faccio dopo faccio una post allora prego rispondo a lei no 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 la faccia magari mi serve no no la premessa era solo dire no no escludo nella maniera più assoluta però non lo sto a spiegare al ministro della cultura però il problema è che in italia non abbiamo per fortuna ha avuto il comunismo quindi abbiamo avuto una dittatura fascista quindi un paese che non ha avuto il comunismo non può essere anticomunista come se ha avuto il fascismo se è antifascista c'è un fatto storico e lo dico per fortuna che non l'abbiamo avuto in ungheria sono anticomunisti perché hanno avuto anche il comunismo noi no e questo volevo dire al ministro san giuliano prego prego bene mi pare non male allora io sono sicuramente io sono sicuramente antifascista dico sempre che sono una donna di sinistra ma non sono mai stata comunista e nel mio piccolo credo di aver contribuito anche attraverso ai partiti e il partito al quale ho appartenuto particolare tutti via la democrazia cristiana fino al partito democratico credo che aver contribuito a che il comunismo che era presente nella vita del nostro paese fosse un fattore integrante della democrazia italiana e questa la differenza profonda che i comunisti italiani hanno scritto la costituzione i fascisti italiani non l'hanno scritta e questa è una differenza profonda e ciò che mi preoccupa di più in questo momento non è solo il fatto che la presidente del consiglio il presidente del senato fanno fatica a dirsi antifascisti e san giuliano vuole una diciamo una dichiarazione di fede anticomunista ai suoi interlocutori ciò che a me preoccupa è che in questo momento noi abbiamo una maggioranza antirepubblicana la riforma del premierato di questo governo che umilia il parlamento annulla il presidente della repubblica mette in crisi tutti gli organi di garanzia non è una riforma che di fatto di annulla la repubblica della costituzione italiana nata con l'antifascismo e quindi la cosa più grave è che non solo non sono non sono chiarissimi ma sono antirepubblicani è chiarissimo agnese intanto nel mondo succedono cose che ci riguarderanno presto anche di vicino a livello economico il famoso world economic forum